Comunque è un ringraziamento proprio all'autorità, proprio i biellesi, inizia proprio dalla questura alla Prefittura, al Comune, al Sindaco Corradino, ai Carabinieri e tutti proprio hanno accettato questa iniziativa col cuore aperto perché noi con questa preghiera chiediamo aiuto al Cielo, al Misericordia che ci salva di questa epidemia, di questo Covid-19, chiediamo aiuto per tutta l'umanità, per tutti gli italiani che noi siamo proprio sotto il comando di Dio e allora di questo punto noi abbiamo fatto il richiamo della preghiera, chiediamo aiuto, chiediamo di salvarci di questa epidemia e non tanto.